Allora, retargeting è un concetto tecnico, nel senso significa ritargetizzare persone che hanno già interagito con una nostra pubblicità. Ciao, sono Stefano Martelli e all'interno di questo video potrei vedere un estratto di una consulenza privata con uno dei miei studenti. Chi sono io se non mi conosci? Sono Stefano Martelli per l'appunto e sono un consulente di marketing e vendita per fotografi di matrimonio. Qui su YouTube puoi trovare tanti video formativi ma soprattutto in questo format, in questi video, andiamo proprio a vedere estratti di consulenza privata con i miei studenti. Quindi questo ti sarà molto utile sia perché le informazioni che adesso vedrai in questo video sono di altissimo valore e anche perché potrai capire appunto come funzionano i miei percorsi di consulenza. Quindi vedere questi estratti potrà aiutarti a capire quelli che possono essere i vantaggi di seguire un percorso di consulenza con me. Se sei interessato o interessata a scoprire di più trovi tutte le informazioni nella descrizione del mio video. Trovi un link a una masterclass gratuita che puoi appunto guardare dove ti spiego quali sono le migliori strategie per aumentare il numero di matrimoni e aumentare contemporaneamente i tuoi prezzi. Inoltre accedendo ora alla masterclass puoi anche aver diritto a un videocorso gratuito che riceverai via email. E comunque se non vuoi perdere tempo e vuoi subito iniziare un percorso di consulenza con me trovi anche il recapito telefonico, il recapito whatsapp aziendale dove puoi mandarci un messaggio per richiedere subito maggiori informazioni. Ma bando alle ciance ti do buona visione per quanto riguarda questo estratto di consulenza. Due concetti, scusami, c'è il primo concetto che non mi è chiarissimo che è il concetto di retargeting. Ok, adesso ne parliamo. Allora ti parlo del retargeting. Ok. Allora retargeting è un concetto tecnico nel senso significa retargetizzare persone che hanno già interagito con una nostra pubblicità. Ti faccio un esempio, tu puoi fare una campagna, quindi una sponsorizzata di interazione video, ti faccio un paio di esempi diversi così non capisci. Quindi fai questa campagna, fai il tuo video dove ti presenti, dove dici chi sei, in cosa sei specializzato eccetera. Quindi questa campagna ha lo scopo di far interagire le persone, quindi far vedere il video, commentare, mettere like, condividere. Cosa succede? Succede che in questo video ovviamente ci saranno persone che guardano il video per diverso tempo, per una diversa durata. Quindi ci sono persone che lo guarderanno per il 25%, persone che lo guarderanno per il 50%, fino ad arrivare a persone che lo guarderanno tutto, quindi al 100%. Ok? Cosa succede? Che Facebook ti mette a disposizione la possibilità di creare un pubblico personalizzato. E quindi tu puoi dire a Facebook, guarda, creami un pubblico personalizzato delle persone che hanno guardato questo mio video almeno per il 50%. Ok. Perché? Perché se io non mi devo sposare il tuo video, non lo guardo, non ho interesse, ma se mi devo sposare ed è un video di 5-6 minuti e lo guardo almeno per il 50%, vuol dire che comunque io ho guardato il tuo video almeno per 2-3 minuti. Quindi? 2-3 minuti sono comunque tanti e io ti ho conosciuto, ho capito chi sei. Quindi vado a creare il pubblico delle persone che hanno visto questo video per il 50%. Poi cosa faccio? Questo pubblico, per questo pubblico faccio, quindi questa è la prima campagna. Poi, subito dopo che ho raccolto un po' di dati, quindi ho un numero sufficiente di persone che hanno guardato questo video per il 50%, vado a fare una seconda campagna, solo su di dove? Diversa, diversa da questa, dove l'obiettivo potenzialmente qui può essere la conversione. Ok. E qui magari ci butto una promozione. Ok. Però questa non è più una promozione su un pubblico freddo che non ti conosce, questa diventa una promozione, la promo, ricevi il preventivo, chiedi informazioni, lascia i dati per essere ricontattato, inizia a avere più senso perché non è più su un pubblico freddo, che non sa nemmeno chi sei, ma è proprio sul pubblico delle persone che hanno già guardato il tuo video. Ok. Ok. E questa è una campagna di retargeting, perché io qui, nelle impostazioni come pubblico, vado a pescare le persone che appunto hanno guardato per il 50% il tuo primo video. Grazie a tutti.